Un altro storico personaggio del Carnevale di Fano, un personaggio che ha reso grande il nostro Carnevale, purtroppo oggi ci ha lasciato, il professor Hermes Valentini. Porgo veramente con tutto il cuore le mie sentite condoglianze, anche a nome del Consiglio dell'ente carnevalesca, ricordando anche un piccolo aneddoto personale, dove nel carro Profumo di Donna, che fu scelto anche per un film di Giuseppe Tornatore, in quel carro e in quel brio c'ero anche io ragazzina e quindi lo ricordo con particolare affetto.